Alla faccia della crisi economica, eccolo qui il tartufo da record per il quale il miliardario cinese Stanley Yeo ha sborsato ben 200.000 dollari, aggiudicandosi l'asta che si è svolta all'Hotel Exedra di Roma. Un'asta internazionale però con collegamenti satellitari con Londra, Macao e Abu Dhabi. Il prezzo iniziale per il prezioso tartufo, il più grande trovato in Italia nel 2008, 1,8 kg, era di 50.000 dollari. Alla fine è stato battuto per 200.000 e tutto il ricavato andrà in beneficenza. È davvero una bella cifra, ha spiegato l'organizzatrice dell'evento Gisello Berti. In un momento così difficile per l'economia siamo davvero felici di poter dare questo contributo. All'asta dello scorso anno erano stati 330.000 i dollari pagati per un tartufo da un chilo e mezzo. Anche in quel caso, ad aggiudicarsi l'asta, era stato il cinese O. Insomma, un vero buon gustaio.